Sono sette le persone arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. Le estorsioni, commesse nei confronti di commercianti e imprenditori della zona di Vittoria e Comiso, sono avvenute tra il febbraio e l'agosto 2023. In particolare, nel caso di due imprenditori edili di Comiso, la richiesta di denaro è stata preceduta dalla deposizione, nei pressi delle loro abitazioni e aziende, di bombole di gas con un finto innesco e con il loro nome scritto sopra. Gli investigatori, grazie all'utilizzo di intercettazioni e di indagini sul territorio, sono riusciti a risalire all'identità degli arrestati e a ricostruire la struttura dell'organizzazione criminale, collegata a clammafiosi locali. Dei sette arrestati quattro sono finiti in carcere e gli altri tre ai domiciliari. All'operazione hanno partecipato circa 60 agenti appartenenti al reparto prevenzioni crimine di Catania, alle unità cinofile di Catania e al reparto volo di Palermo. Ultimo giorno di esami per i futuri commissari europei Le audizioni dei sei vicepresidenti designati si sono svolte al Parlamento europeo. Una delle più controverse è stata quella dell'italiano Raffaele Fitto, del gruppo dei conservatori europei, che è stato designato come responsabile della politica di coesione. Fitto, che è ministro per gli affari europei e ha ricoperto per tre volte la carica di europarlamentare, ha ricevuto alcune critiche per non essere stato abbastanza chiaro sulla convenienza o meno di reindirizzare parte di questi fondi per la difesa e la sicurezza. Non ha detto sono a favore o non sono a favore. Lui si è limitato a dire ad oggi non è previsto, quindi non è possibile ad oggi utilizzare i fondi per questo. Noi ci aspettavamo un passo in più. Un'altra questione importante dell'audizione è stata la necessità o meno di centralizzare e l'uso dei fondi di coesione. La decisione finale su Fitto è stata rinviata su proposta del gruppo dei Verdi, ma date le sue competenze sembra più una tattica tra i diversi gruppi politici. Se un candidato dovesse cadere infatti questo causerebbe la caduta di altri, ritardando così il consolidamento della nuova commissione. In queste ore difficili per il territorio del Catanese e del Siracusano, seguo con la massima attenzione le volaversi della situazione, in stretto contatto con il capo della nostra protezione civile, Salvo Cocina. La regione siciliana sta già operando nelle zone colpite dal maltempo, per le quali ieri era stata diramata l'allerta, ed è pronta a intensificare il proprio intervento per garantire il supporto alle popolazioni colpite e fronteggiare i danni causati dal maltempo. Al momento, comunque, mi informano che non risultano coinvolte persone, ma sono stati causati soltanto danni materiali dalla violenza delle precipitazioni e questo grazie anche al sistema di protezione civile attivato per tempo con la collaborazione dei sindaci. Lo afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento. Prosegue il governatore, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai sindaci e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e portare soccorso a chi si trova in difficoltà. A tutti coloro che stanno affrontando questa emergenza va la nostra vicinanza e il nostro impegno per ripristinare al più presto condizioni di normalità. Il governo regionale non farà mancare il proprio sostegno concreto per aiutare le famiglie e le comunità colpite. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato con l'accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti un pusher catanese 29enne. La capillare presenza dei carabinieri sul territorio ha permesso loro di individuare il giovane, molto attivo nello smercio di droga in zona Villa Bellini. Studiando le sue mosse, gli investigatori hanno compreso che la base logistica dove stoccava la droga, soprattutto marijuana, si trovava nei pressi di via Forlanini. Il momento più propizio per intervenire si è presentato dopo qualche ora di appiattamento. Quando gli investigatori lo hanno intercettato mentre stava andando a rifornirsi di droga in sella al suo scooter. A quel punto, è scattato il blitz, e i carabinieri sono entrati a casa sua per la perquisizione. Nell'appartamento, in un cassetto della cucina, i militari hanno recuperato un foglio manoscritto con gli appunti delle vendite degli stupefacenti e i relativi incassi. Una dose di marijuana skunk di 1,50 grammi. Poiché in tasca il ragazzo aveva ben 800 euro in contanti. Quel quantitativo di droga è sembrato troppo poco agli investigatori. Analizzando le chiavi ritrovate nelle tasche del 29enne, i carabinieri hanno trovato una chiave in più, oltre a quella di casa e del suo scooter, scoprendo dopo ricerche ad una casa diroccata la cui porta era chiusa con un lucchetto nuovo. A quel punto, hanno iniziato anche lì la perquisizione. L'appartamento, un vecchio bilocale disabitato, i carabinieri hanno scovato diverse buste di marijuana skunk del peso di quasi 5 kg, una bilancia di precisione e buste per il confezionamento della droga. L'uomo è stato arrestato ed è scattata per lui. La misura cautelare in carcere, mentre sia la droga che le banconote ritrovate sono state sequestrate. I carabinieri della stazione di Acireale hanno denunciato una coppia di catanesi, lui di 40 anni e lei di 29, per il reato di furto con destrezza, identificandoli come gli stessi individui già segnalati dai colleghi delle stazioni di Catania Ognina e Belpasso. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da una coppia di coniugi, gestori di una tabaccheria di Corso Umberto. Questi hanno raccontato, ai militari dell'arma di Acireale, che un uomo e una donna si erano presentati nel loro negozio con l'apparente intenzione di riscuotere una vincita con un biglietto, gratta e vinci. Le due vittime, hanno spiegato che la donna, di 29 anni, aveva iniziato a intrattenere entrambi i titolari con una conversazione, distraendoli abilmente per circa 20 minuti mentre l'uomo, di 40 anni, approfittato della situazione, si aggirava indisturbato. All'interno della tabaccheria. Quest'ultimo, avendo notato la borsa della moglie del titolare, incustodita su un bancone, vicino, ne ha approfittato per afferrarla senza essere visto al cui interno era contenuta la somma dell'intero incasso dell'attività commerciale di circa 2.000 euro, nonché una carta bancomat che era stata utilizzata dai malviventi per un prelievo di ulteriori 250 euro. Commesso il furto, la coppia è uscita dal negozio con la scusa di dover risolvere altre commissioni. I carabinieri di Acireale hanno pertanto avviato le indagini, procedendo immediatamente ad effettuare ogni tipo di accertamento, acquisendo le immagini di videosorveglianza dell'ATM. Oltre ai video, i militari dell'arma hanno raccolto testimonianze e dichiarazioni dalle vittime e da tutte quelle persone che potevano fornire utili informazioni. L'analisi di tutti i dati in loro possesso ha consentito di documentare la perfetta compatibilità degli episodi offrendo riscontri chiari e inconfutabili sulla loro responsabilità. Il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e l'assessore allo spettacolo Filippo Riela comunicano alla cittadinanza che domenica 17 novembre alle ore 20 e 30 presso. L'auditorium Angelo Musco di Viale Unione Europea a Gravina luogo il concerto sinfonico Il Gigante e la Bambina con musiche di Farrent e Beethoven. A esibirsi sarà l'orchestra. Amatoriale Vincenzo Scontrino, diretta dal maestro Davide Galaverna, che si è già esibita nella stessa sede lo scorso aprile proponendo un altro spettacolo. Direzione artistica a cura del maestro Nicola Malabugini Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 14 novembre di Globus Television. Giovedì, alta pressione sulla regione. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte del territorio. I venti da nord potrebbero far piovere un po' in provincia di Messina. Temperature massime fino a 23 gradi. A presto.